Eeeh 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 Talla di merda Salta quando vuoi Non puoi saltare Salta quando vuoi E se non voglio Salta quando vuoi E salta da sola Eheheh Ancora peggio Ma come faceci? Per sapere che potevo Fasca me Ma te che va a muoio Non so perchè stai senza sola Io muoio oggi eh Comunque oggi ho giocato a Battlefield 1 ultimamente Porco 2 Bellissimo Eh vabbè Il 5 fa veramente cacao Ero mi piace proprio Muoio per vedere la grafica bella di Battlefield 2 Voglio giocare a deserto terzinaio Ma è sicuramente che quel gioco è buggato E mi dà tipo che non ci stanno partite mai disponibili Capito? E non mi trova le partite Eh Devi andare sul browser dei server Eh ma non mi trova mai i server Wow E' vaffa il tuo Qui il 95 E' un po' E' un po' Che manca a me mi trova le partite Però quando faccio i browser Si Cioè giustamente Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Sento che ci dovrebbe stare qualcuno dietro Ok Bravo Mi piace Molto? Oh Qualcuno qua dietro Cioè qualcuno Oh cazzo Mi sono diventato di... Andar la e sparare a Cristo Oh non ci sono uno Ma guarda tu Che puttana stu'a Ma come no, yaaa... Yaaa... Ma dalle parti mie si dice ci ha mancato Guts In inglese we missed no Guts Che canzone è questa? Ma stanno a destra, a sinistra, avanti, dietro, sopra, sotto, non so che fa Sotto che è la canna... Eh esatto Sto dentro al bunkerino, come ha fatto a morirlo? Molino... Ma dove va? Ho scelto Eh ma vabbè ma zio Nooo Sì vabbè Evv mia Grazie Allora Allora Oh però è recuperato sto asset Omo d'oro Ma fai spro di C dai 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 Allora se tu stai andando a buco Ehm... Bello è proprio... Estemi alla madonna Ehm... Feliceta... Fa trovarsi e... Fa aiutarci e... Ah è vero, la nevas A parte, ha presciuto proprio Non potete... Sti artiglieri di settore Ho rabbia Ho rabbia Bravo Repa bastardo Ho preparato Una startiglieria di settore si è caduto Ehm... Se potessi entrarei farei un macello Però... Quando brinci la tiglia diventa curato Eh... Tu esisti Eh... Però... Ehm... Per il root master Ti prova? Vai vai Ti aiuto io, soldato Ci sta Runo davanti a me Io runno Ehm... Cazzo 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 Con minuto non ce la facciamo Andare su D Dobbiamo correre Vai 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 Eh... Perché finisce la partita Eh... Allora ti te lo cazzo Eh... Mi ne so accorto mo Ehm... Perché te l'ho chiesto io Appena è prima partita Poi uscite Perché sennò io non posso Nella partita dopo Quando è iniziate Ci sta sempre gente dietro Aicchio Non mi fa entrare I got you, homie Ah... Sennò io Non mi fa entrare 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 Eh... Sì... Però... Pucca droia Vai dai che ce la facciamo Sì... Ce l'abbiamo fatta Sì... Ce l'abbiamo fatta Sì... Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ci sarebbe una partita 2 a 0 Cioè... Due ticket Cioè... Dove è entrare Che sta andando così bene Questa partita Cioè... 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 Il pugno Attento eh E' una bella costa Ok... Ce l'abbiamo a 10.000 Grazie Non mi aspettavo questo pezzo che si è aggressivo da nuova Caputana Guarda! Si fingono morti nella nevas Attenti qua eh Oh... È morto Beh... No no... Puoi puoi 2 Ci sta il medico tranquillo L'abbiamo fatto lui Avanti su Siamo riuscire a arrivare su Andiamo su Andiamo su Andiamo 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 Di quello che è lì già No... Per me qualcuno è ancora in circolazione Beh... Beh... No no... Non ci sta nessuno su Adesso scoppiamo la cazzo di casa Eh... Sto io dentro Ciccio Cazzo C'è qualcuno su dentro la casa Ah... Con la casa Pezzo di merda C'è qualcuno su A No... Andiamo su B Eh... Aiutatemi Aiutatemi Arrivo 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 Ah... C'ho un medico... Ah vai tu Gina Vado su B Che l'ha stata neutralizzata Grazie... Che è un pezzo di merda Cioè mi si è surriscaldata l'arma Guarda di aver visto... Un... Un pene... Pareva di aver visto un pene... Ahia... Altra casa... Morto Madonna Fatto fatto Tanto muoiono da sole Doveva 35 sicuramente Eccolo Guarda se questo si tuffa Jenna tuffati Tuffo Ahahah Grazie Sono ri-esploso Aiuto Arriviamo Ahia... Sei vivo Sei vivo? Ahia... Eh... Questi vroshi... Grazie Ah boh... T'ho fuggato I fuso figlio Tentillo Questa bomba è per me Si stavo io beh Ahia... Granata Peccate di questo Porco digi che palle Eh... E' forte questo Ahia... Cioè... Scappiamo prima che ci arrivasse Da via C'è sceso C'è sceso Enrico Dove cazzo ha nato? Dico in guisad Go fuck yourself Mi devo mettere con l'MG qua Ahhhh... Il cadavere del tizio dell'aereo che ho fatto esplodere è accaduto sopra la cazzo di cosa Bracca il nome Oddio che soddisfacente fase vecchi ieri con l'anti-aerea Ah no quante erano belle ieri a Battlefield 1 Ecco qui Per mettere il sistema Nooo L'avevo preso No Muoglio Al culo che ho qua Mi serve Aiuto Yes Un medico No no Un medico Chieta Nooo Mi serve un medico Nooo La differenza tra il Gever 1.5 e lo Storm Gever 1.5 E lo Storm Gever 1.5 E' una perna di impesta E' uno è... E' uno è... E' un pestoso E' un altro è una pistola mitagliatrice E' sem matomatic così è vero Ci siamo Che cazzo è Il grado attuale della classe... E' un testoso No lo so Eh deve essere la più inconstazione vedo un cazzo già questa mappa fa schifo no? mettici pure la tempesta di neve ma non cazzo ma ci deve bussare no? è un cazzo c'ho pure il cecchino con fucile d'assalto il cecchino faccio un cazzo mi sono imparato a abbassarmi e praticamente l'MG diventa un cecchino automatico è fantastico non si può sparare se sta in piedi considerando che distrugge tutto quello che vede ah qua c'hanno un coso di rispondi automatico c'è una radio qual è tua bastarda? segnalatore 使i la abbi ti paolo, che sicco li abbiamo massacrati come ti chiedi? amma mia E noi ti vediamo fatto come l'era scoppito del genere, tipo 700-0, di mamma mia, mamma mia gli schifo Noi avevamo proprio caduto in basso, poi una volta abbiamo vinto 1-0, mamma mia, nonno, cazzo E io ieri ammassacro 2-0 Ma com'è il massacro? E' fighissimo, praticamente sono quattro mappe che sono tutte quanti lineali, tipo una, ti faccio l'esempio, una è il ponte, tipo la mappa col ponte E tu c'hai tutti i tre obiettivi, ma tu parti da una parte, gli altri partono da l'altra e ti massacri, cioè è proprio un fronte, ti distruggi Quindi poche parole, ti risponda con un po' l'altro Poi vanno a vederli Come hai fatto a trovare... Dietro Aiuto Attenzione, abbiamo perso l'obiettivo DOG E' lopo mio E' lopo mio E' lopo mio Sto annoiato, però non sto a fare un cazzo, a parte quelli... E' il figlio d'è stata in besta di nevas No No Ho visto un medico correre un mio incontro E poi io continuo a correre da morto E' lì 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 Oh, ma come ha fatto a scendere? E' lì E' lì Io te l'ho chiamata, vaffanculo Oh, un medico! Madonna santa! Sto evitando la quantità di explosivi impressionanti Ehi, colpito! Ehi! Basta rubarmi le kill, Gesù Cristo, però! C'è da! E c'è... Grazie! Non sono di più! Non sono di più! E poi da là dietro ho fatto due hits ancora, cazzo! Ho fatto... Fa 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 fa! Dio dio dio! Tu cazzo sta nascendo aerei! Non sono riuscita a conquistare il... Gli ha nata! Ah, flick to his hours! Cazzo è riuscita a conquistare il cazzo di... La cazza di aerei! 15-5 Considerando questa entrata al po' Anche se oggi la vittoria è nostra... Questo sembra solamente l'inizio di una lunga...